Dopo una preventiva e approfondita attività d'indagine del Corpo Forestale dello Stato di Vallo della Lucania, diretto da Marcello Russo, sono finite nel mirino degli inquirenti opere edilizie realizzate nel comune di Monte Corice. La vasta operazione ha interessato una zona che si affaccia sul golfo di Agnone e Cilento, quindi di particolare pregio turistico. Le micro lottizzazioni costituite da quattro corpi di fabbrica per un totale di 14 unità abitative, che nel complesso costituiscono case ed appartamenti vacanze ubicate su un'area di 5.000 m2 per un valore di circa 1.500.000 euro, sono state realizzate in difformità a quanto autorizzato ed oltretutto in area protetta. Accertato l'abuso, i forestali hanno posto sotto sequestro tutta l'area e denunciato alla Procura di Vallo della Lucania 11 persone che dovranno rispondere a vario titolo di violazione in materia urbanistico edilizia, di deturpamento e alterazioni di bellezze naturali di zone sottoposte a speciale tutela.